Chiaramente partiamo dal daily, andiamo a vedere perché c'è stata questa rottura ieri dei massimi precedenti daily, due massimi precedenti daily, rottura con candela di accettazione, il prezzo ha accettato la rottura di questi due massimi, molto bene perché questa freccia da adesso diventa questa freccia, ok? Il nostro bias diventa rialzista perché, ripeto, abbiamo trovato un discorso di accettazione, questa diventa verde, discorso di accettazione che vi deve andare bene se lavorate con i concetti di accettazione, altrimenti lavorate con i vostri concetti. Vediamo che cosa aspetteremo in questo momento, noi abbiamo il trend che fa questo movimento, no? Questo movimento, questo è un pattern, eh? Rottura. Quindi adesso vediamo dove arriviamo con questo e poi semmai andremo a ricercare un prossimo impulso per una continuazione del trend. Bene, premetto già da ora che se dovessimo rompere questo massimo daily è un segnale long molto forte, non molto forte, molto forte, ok? Cioè, con la M proprio, oh, molto forte. Allora, no, a parte gli scherzi, allora qui abbiamo, abbiamo avuto, in realtà ragazzi ha fatto quello che ci aspettavamo senza lo spring, non era affatto nulla di che, l'avevamo detto su ogni video che avevamo visto, ok? Quindi abbiamo rotto, bellissima candela di accettazione in questo punto, qui c'è stato un breakout long, ok? Bellissimo, con candela di accettazione, candela con volumi, V6 che segue, ok? Siamo un attimo fermi ma qui non vuole assolutamente dire nulla, ok? Quindi siamo assolutamente long anche per un discorso di trend breve, quindi trend sul quattro ore. 1H, in realtà siamo arrivati, esattamente come avevamo detto, guardiamo un attimo il futures, avevamo detto che il prezzo sarebbe sceso in questo punto dove c'era questa candela, ok? Adesso spiegherò su un video per gli abbonati perché queste candele funzionano, apertura con gap, questo non mi piace onestamente, è l'unica cosa che mi preoccupa in questo movimento rialzista. Appoggio, ci siamo appoggiati sul 25, rottura, rottura della liquidità che ci aspettavamo, quindi nulla, in realtà nulla di che di diverso da quello che abbiamo detto sul video, quindi abbiamo avuto addirittura anche questo movimento che avevamo detto che ci sarebbe stato. Ora vediamo se, come dicevamo ieri nel video, continuerà il trend oppure no, però siamo arrivati alla grandezza, l'impulso è questo, ok? Quindi questo lo abbiamo preso, ci siamo, cioè le nostre logiche hanno assolutamente funzionato, ok? Quindi adesso andiamo a togliere questo impulso perché l'abbiamo visto che è andato a buon fine, andiamo a prendere il nuovo impulso, andiamo a prendere la nostra teoria quartile, vediamo se arriveremo, teoria quartile long, a sbilanciare, a rompere, vediamo se questo punto di inversione, chiusura di imbalance, avevamo visto tutto in questi punti, tutte cose che sappiamo già, ok? Ora vediamo perché la zona di ritest del massimo daily è la zona del 75% e del POC, quindi un ritorno in questa zona mi piacerebbe onestamente per un, per un, diciamo, per una risalita del trend molto, ok? Cioè, mi seguite? Cioè, per una maniera tecnica, per una maniera tecnica, ritestare questa zona e poi ripartire sarebbe veramente da manuale, però da manuale bisogna sempre aspettarsi poche cose, lo sapete, no? Allora, altra roba che vi volevo dire è questo, oggi non deve fare, c'è solo un movimento che oggi non deve fare, uno, ovvero questo, uno, eh? Questo. Da qui va a rompere, va a sbilanciare, quindi intorno a ora di pranzo, poco prima va a sbilanciare e poi, se non muoio, e poi riassorbe. Ecco, se fa un movimento del genere, ecco, questo non lo deve fare e vi spiego anche il perché. Perché, come ho detto, qui avevamo visto che era una potenziale zona di reversa, da settimane che lo stiamo dicendo, da giorni che lo stiamo dicendo. Potenziale zona di reversal, dopo un trend che abbiamo visto benissimo, che deve, ad un certo punto dovrà ritracciare, che è quello che vi ho detto, no? All'inizio del video, no? Il trend dovrà ritracciare, quindi dovrà fare quel discorso che abbiamo visto, il trend ha fatto così, ok? Noi abbiamo detto che il trend dobbiamo trovare questo impulso, ok? Che è quello che sto aspettando io esattamente in questo momento, va bene? È questo l'unica, l'unico movimento che non deve assolutamente fare. Presa di liquidità qui sopra, ma neanche, cioè, ok? Questo diventerebbe uno sbilanciamento, ok? Adesso tolgo un attimo questo. Qui diventerebbe uno sbilanciamento di questa zona, ok? Diventerebbe un imba... scusate, no, sbilanciamento, dove cavolo è? Sbilanciamento, ok? Quindi questo movimento diventerebbe una presa di liquidità in sessione pomeridiana prima di martedì, prima dell'apertura dei mercati, malissimo, ok? Una roba del genere sarebbe proprio male, 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 ok? Di conseguenza guardiamo un attimo. E vi ho detto, continuazione del trend sappiamo cosa fare e sbilanciamento sappiamo cosa fare. Per il momento è tutto. Se siete arrivati fino a qui lasciate un like e un commento. Grazie a tutti gli abbonati perché questo è possibile grazie a loro. E ci vediamo nel prossimo video. Questa settimana uscirà un altro bel video. Se siete arrivati fino a qui scrivete Pantera Rosa. Grazie a tutti.